Dimostrazione di efficienza delle unità cinofili antidroga della Guardia di Finanza del Comando regionale dell'Aquila. L'esercitazione, prima nel suo genere per la Guardia di Finanza abruzzese, ha visto confrontarsi tra di loro 12 militari cinofili e rispettivi cani in due differenti impieghi operativi. Una prima ispezione di plichi, anche di corrispondenza del Corriere Espresso dell'Aquila, e un controllo sulle persone in movimento, con la simulazione di uno scenario generico, di un terminal di attesa. presso la caserma del Comando regionale della Guardia di Finanza. L'attività di controllo è fondamentale, sia per quanto attiene il discorso repressivo che per quanto attiene il discorso preventivo. Infatti questi controlli vengono fatti quotidianamente dall'unità cinofili, sia per controllare e mantenere alto il rischio di poter controllare il traffico nelle varie situazioni, nelle varie città, delle sostanze stupefacenti. Al termine dell'esibizione il comandante regionale Agnello ha consegnato all'unità cinofila che ha realizzato il maggior punteggio una medaglietta commemorativa. E ha precisato, i cani non vengono drogati come si crede comunemente, è importante precisarlo. C'è da ricordare sempre che i nostri cani ovviamente non sono drogati e che cercano lo stupefacente soltanto perché stimolati attraverso un gioco. C'è da ricordare sempre il passaggio. Grazie a tutti.